Grazie Tropea d'Intorni per questo spazio importante di informazione. Questa mattina eravamo a Drapia in località Briganteu dove si è inaugurato il cantiere che avvia finalmente i lavori di un'opera importante che era attesa da decenni, la cosiddetta strada Briganteu che collega il centro abitato di Drapia a Tropea. È molto importante perché è un'infrastruttura di collegamento che migliora la mobilità di tutti i comuni limitrofi ma soprattutto apre delle nuove prospettive economiche, commerciali e soprattutto culturali di fruizione anche turistica maggiore, migliore. È importante anche dare informazione del fatto che questa strada Briganteu, una strada storica turistica che è stata finanziata durante il governo Draghi. Me ne sono occupata io durante il mio mandato da sottosegretario di Stato per il Sud. Ho elaborato questo contratto di sviluppo per tutto il territorio calabrese. Dunque non ho pensato soltanto ad una località ma all'intera regione. Questo perché il contratto di sviluppo che ho chiamato CIS Calabria a svelare bellezza e che è stato effettivamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di allora, del governo Draghi, abbiamo stanziato ben 227 milioni di euro. Capite che è un'operazione di risorse e finanziamenti molto importante che ha finanziato 110 opere e progetti su tutto il territorio regionale. Dunque la strada Briganteu di Drapia è soltanto una di tutte le 110 opere diffusi sul territorio e finanziate con il CIS Calabria a svelare bellezza. Dunque è su questo che voglio attirare la vostra attenzione, sicuramente essere felice e complimentarci con il sindaco Alessandro Porcelli e tutta la sua amministrazione comunale di Drapia, ma dobbiamo anche stare attenti affinché queste risorse vengano spese anche in tutto il resto della regione. Io ho sollecitato tutti i giornalisti ad approfondire e soprattutto ho chiesto ai sindaci dei comuni beneficiari di questi importanti finanziamenti un maggiore slancio e questo per un motivo molto fondamentale, ovvero questi finanziamenti sono stati erogati nel 2022. Tutti i comuni hanno potuto chiedere anche l'anticipo e scadranno nel 2025. Cosa significa che scadranno? Ovvero che se non ci saranno degli obblighi giuridicamente vincolanti entro l'estate 2025 questi soldi andranno persi e per obblighi giuridicamente vincolanti si intende che devono essere appaltati i lavori. Dunque è davvero molto importante che gli amministratori locali procedano con celerità per evitare che il CIS Calabria a svelare bellezza non sia disperso come quei tanti fondi dell'Unione Europea e nazionali che spesso poi non riescono ad essere utilizzati nel nostro sud. Da sottosegretario di Stato del governo Draghi ho voluto dare queste importanti opportunità alla Calabria e ci terrei anche per amore verso il nostro territorio che queste risorse vengano spese bene. Ovviamente ci sono tutti gli organi e le autorità di controllo che monitorano questi processi però sta anche alla cittadinanza, alle comunità, dei comuni beneficiari di capire quante risorse e come verranno spese sul territorio. Io ricordo che anche Tropea è stata beneficiaria di un importante finanziamento ben 5 milioni di euro per un progetto integrato che finanzia due opere strategiche per la nostra città di Tropea ovvero un ascensore che collega la città al mare da Piazza Cannone e poi anche una serie di campetti sportivi che andranno a riqualificare quell'area dell'attuale campo sportivo di via Campo Superiore. Quindi come vedete anche qui la triade commissariale è stata attenzionata per cui entro l'estate prossima dovranno appaltare i lavori di queste opere strategiche. Voglio sottolineare che di questi 227 milioni di euro dedicati alla Calabria ben 35 milioni sono andati al territorio vibonese e insomma vi elenco brevemente i comuni che sono stati beneficiari Arena, Capistrano, Limbadi, Mongiana, Nicotera, Parghelia, Polia, Ricadi, Serra San Bruno, Soriano, Spadola e Vibo Valencia. Il vostro giornale ha documentato tutti questi progetti e soprattutto siete stati anche presenti il giorno in cui è stato firmato ufficialmente il contratto per la Calabria a svelare bellezza perché è avvenuto appunto il 21 giugno 2022 proprio a Tropea nel Palazzo Santa Chiara. È stata una giornata importante perché c'era la presenza degli uffici preposti anche online di tutti i ministeri competenti e abbiamo formalizzato l'elenco e la concessione dei relativi finanziamenti. Poi successivamente purtroppo quando il governo Draghi è caduto sono comunque riuscita a seguire l'iter e abbiamo avuto la delibera CIPES numero 30 che ha assegnato i 227 milioni dedicati alla Calabria e con la sua pubblicazione quindi si è avviato anche il termine per il loro utilizzo e per questo che entro tre anni dalla pubblicazione della delibera devono necessariamente essere spesi dunque entro il 2025. Grazie ancora a Tropea d'Intorni e buona lettura.